Tempesta, la vita e non la morte di Giacomo Matteotti. E questo è il titolo dell'ultimo lavoro letterario dello scrittore Antonio Funicello, originario di Piedimonte Matese, che ha presentato al liceo di Piedimonte davanti a un'aula gremita di studenti interessati ad un tema appassionante e a un personaggio affascinante come Giacomo Matteotti, politico, giornalista e antifascista italiano, nonché segretario del Partito Socialista Unitario. Ha fatto gli onori di casa la dirigente scolastica e vice sindaco della città Bernarda De Girolamo. Ma perché specificare la vita e non la morte di Matteotti? Lo abbiamo chiesto all'autore Antonio Funicello. Per comprendere le ragioni che indussero i fascisti ad assassinare Matteotti bisogna conoscere bene che cosa aveva fatto durante la vita. Durante la vita Matteotti era stato un grande difensore degli ultimi, aveva difeso la libertà, aveva difeso la fragile democrazia italiana, aveva cercato di impedire che il fascismo si affermasse e per questa ragione i fascisti l'avevano riconosciuto come il loro principale avversario, il loro principale nemico. Quindi si parla esattamente della vita di Matteotti? Si parla, io ho provato a raccontare in questo centenario della morte la sua militanza giovanile, la sua giovinezza politica in provincia di Rovigo, il suo impegno sindacale nelle leghe dei braccianti, il suo impegno amministrativo nei comuni da amministratore comunale e poi pian piano la sua scesa politica nel Partito Socialista italiano, il modo in cui arriva a Roma e il modo in cui poi a Roma in Parlamento riconosce subito la minaccia che nel bienio nero il fascismo rappresenta per l'Italia. Sarà un'opera importante anche per i ragazzi, per le scuole sicuramente? Sì, perché purtroppo spesso Matteotti ha una strada in una città, più o meno si sa che è un martire ammazzato dai fascisti, ma si ignorano tutte le cose meravigliose che ha fatto e certamente Matteotti può essere un esempio per i ragazzi, perché è stato un giovane appassionato, molto motivato e che ha dedicato la sua vita a dei grandi ideali e poi si possono condividere o meno, però certamente un esempio positivo di impegno, di abnegazione e di fiducia verso la possibilità che le cose si possano migliorare. L'ultima domanda, dove è possibile trovare il suo libro? In tutte le migliori e peggiori librerie e poi sono tutti quanti online, tutti quanti i vettori che vendono libri, non li citiamo per non fare obbligità.